Qual è il secondo ingrediente alieno se vuoi risolvere le litigate tra i tuoi figli? Come sai, qualche giorno fa alla Vita Indiretta abbiamo iniziato a dare questo tipo di suggerimenti, poi il tempo è stato tiranno, non ho avuto il tempo di terminare e molti di voi mi hanno chiesto qual era il secondo ingrediente. Come vi ricordate, il primo ingrediente era il giocare d'anticipo. In generale, non pretendere che i tuoi figli vadano per forza d'accordo tra di loro, che per forza giochino insieme e si vogliano bene. Anzi, l'ideale è proprio quello di riuscire a dedicare a ciascuno di loro del tempo esclusivo da passare insieme, soltanto con te, che tu sia mamma o che tu sia papà. Questo è molto importante per riuscire a ridare loro la conferma, perché le parole non bastano, che in effetti lui conta davvero tanto, anche se c'è il fratello o c'è la sorella. Il secondo ingrediente invece riguardava e riguarda il momento in cui loro litigano. È fondamentale agire in maniera totalmente diversa da quello che hai imparato. Solitamente siamo abituati a non intervenire, o se interveniamo, interveniamo rimproverando chi ha fatto un dispetto al fratello o alla sorella e proteggendo, difendendo il fratello o la sorella che sono stati colpiti. Ti invito a intervenire sempre e a fare questa riflessione. In verità i bambini, che per natura sono pacifici, tutti i bambini del mondo per natura sono pacifici, non avrebbero nessun motivo di attaccare, aggredire, a meno che non si sentano per primi attaccati, indifesi, impauriti o arrabbiati per un motivo davvero profondo. Solitamente quando accadono queste litigate tra fratello e sorella, c'è sempre un bambino dei due che si sente ferito. Si sente ferito perché sei arrivata tu a rubermi l'amore di mamma e papà. Mi sento messo da parte, mi sento paragonato, non mi sento capita o capito. Allora, quando litigano, intervieni e difendi entrambi, ascolta le motivazioni di entrambi e accogli entrambi. Nello stesso momento, non avere timore di farlo. Quindi, prendi vicino a te chi si è ricevuto un gioco sulla testa, Amore, mi dispiace, mamma mia, che male, vieni qua, vieni, piangi, eh, lo so, ma fai altrettanto con l'altro che ha lanciato il gioco. Mamma mia, dovevi essere proprio tanto arrabbiato, se addirittura le hai tirato un gioco in testa. Cavoli, tesoro, vieni, vieni qua, lo capisco che sei tanto arrabbiato, che questa cosa ti dà tanto fastidio. Ma è successo qualcosa proprio di terribile per farti arrabbiare così tanto, lo so. Vieni, adesso insieme troviamo una soluzione. Se tuo figlio si sente compreso, capito, accolto nel suo disagio, le volte successive nel tempo non avrà più paura di venire da te e dirti Mamma, ho bisogno di stare più tempo con te. Mamma, mia sorella o mio fratello mi ha dato fastidio. Aiutami. Mamma, non voglio più stare a giocare con lui. Guarda che mi sta facendo venire nervoso. Per favore, fai qualcosa. Se noi arriviamo e chiediamo sempre chi è stato e rimproveriamo e facciamo le filippiche, questo grande, enorme risultato, che non è poi così difficile da raggiungere, in verità non lo otterremo mai. Primo, ricordati di dedicare a ciascuno del tempo esclusivo. Secondo, quando intervieni, intervieni accogliendo entrambi. Perché chi fa i dispezzi al fratello o alla sorella non è un fratello o una sorella cattivo o cattiva. Semplicemente ha bisogno di qualcuno che accolga la sua frustrazione di quel momento e soprattutto tutte le frustrazioni accumulate che nessuno ci ha mai insegnato come accogliere e dobbiamo imparare a farlo.